Ciao a tutti, oggi mi sentirete parlare male, mi viene già da ridere, ma purtroppo sono dovuto andare dal dentista e sono necessitato da questo lato qua, quindi parlo un po' strano. Comunque, visto che vi ho promesso un video al giorno per 30 giorni, oggi è il 26esimo giorno e quindi oggi sono qui a portarvi lo stesso il video. Vi ho creato due playlist, una è relativa al video di oggi, ovvero quella dove vado a comparare due aziende molto simili, ad esempio oggi andremo a vedere Coca-Cola vs Pepsi. Negli scorsi video vi ho visto Mastercard vs Visa, AMD vs Intel, se volete recuperarvele trovate la playlist apposta. Invece ho poi creato anche la playlist in cui vado a mostrarvi tutti e 30 i video che ho caricato appunto per la challenge. Attualmente questo qua è il 26esimo video, ci saranno ancora 4 video da caricare. Oddio mi fa troppo strano parlare così, comunque vabbè, continuiamo con il video. So che tanti di voi non lo sanno, ma quando andiamo a parlare di Pepsi e di Coca-Cola non stiamo andando a parlare solo del brand Coca-Cola e del brand Pepsi. Infatti sono entrambe delle holding che detengono altri brand. Ad esempio Coca-Cola ha un brand fortissimo che è Monster, che è anche uno di quelli che ha permesso a Coca-Cola di avere performance straordinari in borsa. Perché se voi andate a vedere la performance totale di Monster, ora ve la faccio vedere, è impressionante. Considerate che da quando è quotata Monster ha avuto una performance del 64.000%. Adesso non so la data esatta in cui Coca-Cola ha acquistato il brand Monster, però capite che per dirvi anche solo negli ultimi 5 anni Monster ha avuto una performance del 64% che è molto molto buona. Comunque questi sono i vari brand che detengono entrambe le holding. Ad esempio di Pepsi non so se la conoscete, però tipo il marchio di patatine Laze è molto famoso. Anche le Doritos, magari più in America, però in generale anche qua in Europa. Oppure sicuramente conoscete i brand di tè Lipton. Sono entrambi brand appunto di PepsiCo, che sarebbe la holding che detiene tutti i brand. Per quanto riguarda Coca-Cola ovviamente, non so se tutti lo sanno, però tipo ad esempio Fanta, Sprite o Nesty sono tutti brand di Coca-Cola, come Powerade anche. Detto questo, un'altra cosa che ci teniamo a farvi vedere è la differenza che c'è per quanto riguarda la presenza nei vari fast food. Infatti i vari accordi prevedono che Coca-Cola sia all'interno di tutti i Burger King e McDonald's, oppure Wendy's che è molto molto famoso in America. E tra l'altro dicono tutti che sia anche uno dei migliori fast food. Mentre Pepsi è presente soprattutto nei KFC, nei Taco Bell e nei Pizza Hut. Per quanto riguarda la performance in borsa, entrambe le azioni si muovono abbastanza in modo simile. Questo perché sono entrambi nello stesso settore, che è quello dei food and beverages. Infatti nell'ultimo anno entrambe hanno avuto una performance che va dal meno 1% all'1%. Per quanto riguarda invece gli ultimi 5 anni, la performance anche qua è abbastanza simile, però c'è stata una netta sovra performance per quanto riguarda Pepsi nei confronti di Coca-Cola. Che tra l'altro per chi non lo sapesse, Pepsi fattura tanto di più di Coca-Cola, ovviamente però a margini meno elevati. Considerate che ad esempio Pepsi nell'ultimo anno ha fatturato all'incirca 83 miliardi di dollari, mentre Coca-Cola decisamente di meno. Che forse vi sorprenderà anche. Coca-Cola ha fatturato praticamente la metà, infatti ha fatturato 42 miliardi di dollari, che è decisamente di meno. Tra l'altro ci tenevo a dirvi che alla fine del video vi farò vedere la mia valutazione su entrambe le aziende. Quindi se avete una posizione, avete intenzione di aprirla, magari vi consiglio di guardare il video fino alla fine, in modo tale che sapete la mia opinione su entrambe le aziende. Considerando che Coca-Cola ce l'ha in portafoglio, mentre Pepsi no. Pepsi ho venduto un po' di tempo fa, non mi ricordo a che prezzo, però guarda e ve lo dico. Considerate che io più o meno l'ho venduta intorno ai 136 dollari, quindi mi sono perso più o meno una performance del 27%, però dovete considerare che quello che ora ho investito a luglio del 2020 l'ho investito in altre aziende che penso mi abbiano performato o così o di più. Quindi non ho nessun tipo di problema a dirlo e ha solo un'informazione. Detto questo andiamo a vedere il confronto fra le due aziende. Per semplificare il tutto vi ho creato questo foglio di calcolo in cui andiamo a vedere in verde quelli che sono indicatori di bilancio migliori e in bianco quelli peggiori. Come potete vedere a prima occhiata Coca-Cola per quanto riguarda lo stato patrimoniale, ma anche il conto economico è messo decisamente meglio. Questo è tutto principalmente al fatto che se noi andiamo a vedere lo stato patrimoniale di Pepsi, possiamo vedere come sia abbastanza indebitata in relazione a quanto cash e investimenti a breve ha. Infatti è addirittura debiti a lungo termine di 33 miliardi contro cash e cash equivalente se noi andiamo a prendere il debito totale è addirittura di 40 miliardi. Se noi invece andiamo a confrontare la situazione di Coca-Cola possiamo vedere come abbia sì 40 miliardi più o meno anche lì di debiti totali, ma ha praticamente il doppio in cash e cash equivalente, infatti ha 13 miliardi in cash. E per questi tutti gli indicatori che rapportano il cash sul debito e il cash sul debito a breve sono tutti migliori quelli di Coca-Cola. Per quanto riguarda i margini anche qua la situazione non cambia, infatti anche se nel gross margin siamo più o meno simili su tutti gli altri non c'è competizione. Pensate che il net margin di Coca-Cola è praticamente doppio rispetto a quello di Pepsi, ma non sapete quanto mi dia fastidio parlare così, però posso solo fare così. Gli indicatori dove Pepsi è meglio posizionata sono quelli relativi alla redditività, ovvero il ROE è più alto, il ROI anche più alto, mentre il ROA, che tra l'altro per chi non lo sapesse sarebbe il return on equity per il ROA, il ROA sarebbe il return on asset e il ROIC sarebbe il return on invested capital. Per quanto riguarda gli interessi sul debito possiamo vedere come il rapporto che c'è tra interessi e l'utile netto sia nettamente a favore per Coca-Cola. Infatti gli interessi relazionati all'utile netto di Coca-Cola sono il 7% mentre di Pepsi è addirittura il 25% che è tantissimo. Per quanto riguarda la valutazione sui multipli qua trovo due aziende a mio avviso nettamente sopravvalutate, infatti entrambe hanno dei price earnings che non hanno alcun senso in relazione alle stime di crescita che avranno, entrambe le aziende per i prossimi anni. E infatti troviamo aziende con un price earnings di 26 per Coca-Cola e 24 per Pepsi. Non hanno decisamente senso, se andiamo a vedere anche il free cash flow, possiamo vedere come Pepsi ha addirittura un price free cash flow di 22 e Coca-Cola del 26 praticamente. Follia per entrambe le aziende e la follia la ritroviamo anche sul PEG perché Coca-Cola che ha un PEG di 2,15 e Pepsi che ha un PEG di 2,48 sono anche qua folli. Per chi non sapesse il PEG non è altro che il PE fratto le stime di crescita per i prossimi anni. Qua abbiamo alcuni indicatori di analisi tecnica e sono tutti praticamente a favore di Coca-Cola semplicemente perché è scesa di più. Tra l'altro per chi se lo stesse chiedendo, questi qua sono indicatori tecnici che nel breve periodo dovrebbero potenzialmente indicare debolezza per l'azione e quindi a mio avviso per il lungo termine sono indicazioni positive. Ed è per quello che preferisco avere magari un'azienda che è sotto alla media 20 periodi rispetto a un'azienda che è sopra. È un indicatore contrarian per come lo vedo io. Ma ora andiamo a vedere la parte un po' più succulente ovvero la valutazione da qua a 3 anni. Per quanto riguarda le stime di crescita degli utili più o meno siamo in linea. Infatti Coca-Cola ha una stima di crescita per i prossimi 3 anni in circa di un 9% anno mentre Pepsi solo del 7%. Per quanto riguarda il discounted cash flow entrambe le ritengo sopravvalutate ma dopo andiamo a vederlo spiegato meglio. E la cosa più importante è che il rating attribuito da 1 a 10 tramite il mio algoritmo è di 5,89 per Coca-Cola e 4,79 per Pepsi. Andando a vedere brevemente il discounted cash flow di Coca-Cola possiamo vedere come l'azienda stimando la crescita del free cash flow del 9% anno per i prossimi anni e avendo un perpetual growth rate del 2-5% otteniamo addirittura una sopravvalutazione del 34%. E considerate che non sono stato conservativo perché una crescita del 9% anno per i prossimi anni per Coca-Cola diciamo che è abbastanza elevata. Questo vi fa capire quanto io personalmente ritengo sopravvalutato Coca-Cola. E stessa cosa per Pepsi infatti la situazione non cambia ed è il motivo per il quale avevo venduto due anni fa. Infatti per Pepsi la sopravvalutazione è addirittura del 35% stimando la crescita del 7% anno per i prossimi anni e un perpetual growth rate del 2-5%. Infatti il fair value che do io è intorno ai 112 dollari. Detto questo il possibile gain che secondo i miei calcoli si potrebbe fare su entrambe le aziende da qua a 3 anni è 14% per Coca-Cola e 5,77% per Pepsi. E questo include i dividendi che ricevete nei prossimi anni. E' per questo motivo che a questi prezzi io personalmente scarto entrambe le aziende. Detto questo fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Ciao a tutti!